I paesi come il nostro muoiono come delle mosche. Dovrebbe mandarcene via a bebè. La banca non dà soldi a chi non ne ha. Mi sono messo i soldi di cari, il tizio della banca mi ha preso la giacca e mi ha chieduto la pistola e sono tutti impazziti! Trattarsi dell'azione coordinata di un gruppo di professionisti. Non è una rapina! Non li voglio i soldi! Qua c'è qualcosa come 20 milioni. 20 milioni. Io non volevo! Scusate! Ho un piano. Vai, vai, fanno bene, fanno bene! Non mi hanno rapita, mi sono finta ostaggio di un tipo che ha rapinato una banca. Se in questo momento stai provando un'inaspettata eccitazione sessuale, sappi che è normale. Se qualcuno si muove l'ammazzo! Adrenalina! I ragazzi sono solo capitati, il giorno sbagliato nel posto sbagliato. Ma non interessano solo i soldi. Adesso è meglio per loro. E li prendiamo prima noi. Ma perché continui a regalare i soldi alla gente? Perché noi siamo i buoni, Rossi. Ma che cazzo siete dell'agenzia delle imposte? Adesso io scendo e ognuno per la sua strada. Fosse in te non lo farei. Guarda un po'. E dove scappi? Ti troverai seduta in un silenzio. E dove scappi? Per una strada che stanotte ti ci perdi dentro. Visto che domani probabilmente moriremo... Non è per niente male essere qui con voi. Non abbiamo paura di voi! Amo tutto quello che fai. Amo il rumore dei tuoi gesti. Il rumore dei tuoi gesti.